Le nostre strade si incrociano di nuovo, solo. Ancora tu? Ma che vuoi? I miei desideri sono anche i tuoi. Ognuno di noi vuole lasciare questo luogo con le giuste risposte. Perché siete identici a me? La logica è la madre di tutte le domande. Ognuno di noi è una parte della tua coscienza, che ha preso vita propria. Che... che intendi dire? Che conosco perfettamente il motivo della tua ricerca. Ognuno di noi vuole scoprire il senso della propria esistenza. Ma sta attento, perché ora anche noi esistiamo, proprio come te. Quindi tutto ciò che ho visto era frutto della mia mente? Imparate, ma non perdere tempo a cercare di capire. Tu sei la chiave. Sappi questo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.